Buongiorno, buongiorno, oggi domenica 7 agosto, Rassina Stampe in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Gran lavoro da parte della centrale 118 questa notte per coordinare una serie di interventi, il primo particolarmente difficile sull'Hortless, ieri sera intorno alle 22 per il recupero di un escursionista rimasto ferito coinvolto anche il soccorso alpino svizzero. A San Giorgio un incidente tra una moto e un'auto, due le persone ferite, sempre due le persone ferite, si tratta di due ragazzi di 16 anni a San Pancrazio rimasti feriti appunto durante causa un incidente con i loro scooter. Ieri sera una rissa è scoppiata all'esterno di una discoteca di Bolzano, intervento del medico d'urgenza e poco prima delle 6.30 intervento di recupero su passo Pennes per l'infortunio ad un partecipante di una delle gare di corsa in montagna in svolgimento in questi giorni in Alto Adige. In regia abbiamo José Nunez con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in Edicola. L'Alto Adige dedica la sua prima pagina all'espansione del centro commerciale Tuenti, mercoledì si decide su altri 30.000 metri cubi. Traffico sui passi dolomitici, la fuga dall'asfalto con bici e funivie. Grande successo per la festa di Merano, assalto al centro con migliaia di visitatori. Negozianti cauti su via Torino pedonalizzata e ancora sui 4 milioni per Hofer tutti zitti. La polemica di Antonio Lampis riguardo l'inchiesta della Corte dei Conti sul progetto Bolzano, capitale della cultura. Sfida tra go-kart in piazza, Widman batte i campioni di scito, questo a Bressanone e per la politica la proposta dai Verdi ai consiglieri, un tetto di 3.000 euro. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, urbanistica, la riforma in arrivo, le novità riguardano un verde più tutelato, la legge Benko rivista. Carabina alle Olimpiadi, Petra Zublasin, manca la finale, dice, è una ferita nell'anima. Inchiesta su Monsignor Benvenuti, maxi sequestro, recuperati 14 milioni di euro. La cronaca a lingua tedesca affidata la domenica al settimanale Zet, che troviamo in edicola al posto del quotidiano Dolomita, in apertura e l'approfondimento interno. L'intervista ad una ragazza rimasta miracolosamente illesa all'interno di quest'automobile, centrata prima da un albero e poi dal palo del telefono nel corso di uno dei violenti temporali che si sono abbattuti sulla provincia di Bolzano nei giorni scorsi. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.